carissimi ragazzi e ragazze in ascolto come tutti i gentili ascoltatori collegati da Radio Buon Consiglio un santo pomeriggio a tutti a me Maria, da Leonardo Maria Pompei che vi dà il benvenuto ad una nuova puntata di Spazio Giovane dedicata come sapete all'approfondimento del dono e del mistero della Divina Volontà siamo giunti nella sezione di questo nostro itinerario che prevede la trattazione dello splendido tema dei giri nella Divina Volontà e abbiamo già trattato i giri nel Fiat Creante i giri nel Fiat Redimente in particolare approfondendo il discorso sulle ore della Passione e abbiamo la volta scorsa introdotto il tema dei giri nel Fiat Santificante in modo particolare abbiamo cercato di vedere come si gira diciamo così nel senso inteso da Luisa nei sacramenti tenendo presente che un giro nella Divina Volontà implica sempre un'operazione interiore che è di riconoscere un dono che Dio ci fa e l'amore di Dio in quel dono ricambiare con una risposta di amore quel dono che Dio ci ha fatto evidentemente accogliendolo valorizzando e semplicemente ricambiando amore con amore mettere il nostro ti amo nel dono e riparare anche con il nostro amore con i nostri atti di riparazione per quanti non apprezzano non corrispondono non riconoscono o non ricambiano quel dono ora dentro il Fiat Santificante noi sappiamo che con Fiat Santificante si intende la manifestazione appunto della Divina Volontà in quanto operante la santificazione dell'uomo dopo l'opera della retenzione compiuta dal nostro Signore Gesù Cristo e subordinatamente ma collaborativamente perdonatemi il termine con lui dalla sua Santissima Madre che è nostra corredentrice e quindi il campo diciamo così potenziale dei giri nel Fiat Santificante come del resto anche dei giri nel Fiat Creante che è la stessa cosa è potenzialmente infinito per cui potremmo dedicare vita naturale durante incontri su incontri catechesi su catechesi a fare esempi io ne farò qualcuno in particolare perché qui veramente ci sarebbe un ambito grande ecco di santificazione non soltanto nostra ecco ma un giro nel Fiat Santificante sempre se si segue il Pio per l'egrinaggio nella Divina Volontà attira tantissime grazie sulle persone cioè nella Divina Volontà si impara adesso poi terminato diciamo questa sezione faremo diciamo come dire forse oggi stesso non lo so dove ci porta lo Spirito Santo però faremo un attimo un po' un punto della situazione con la lettura di un brano di Luisa che a dir poco impressionante stupendo ecco che dà una magnifica sintesi un po' del percorso che stiamo facendo ecco prima di di giungere alla parte diciamo finale di questo ciclo di catechesi se Dio vorrà che riguarda una serie di brani scelti che vorrei leggere con voi che fanno comprendere le meraviglie del Regno della Divina Volontà alcuni effetti impressionanti del vivere nella Divina Volontà sia per quanto riguarda la persona che vive questo dono sia per quanto riguarda l'ambiente che lo circonda sono delle cose molto belle molto grandi insomma se il Signore ci aiuterà a poter fare questo 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 viaggio ricognitivo e allora nel Fiat Santificante ci sono dei nei giri nel Fiat Santificante ci sono delle operazioni molto molto particolari molto belle che ci consentono davvero di poter interfacciarsi perdonatemi il termine un po' moderno in maniera completamente differente con 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 tutte le realtà che che ci che ci capitano è meglio fare degli esempi perché gli esempi sono sempre la più grande scuola che si possa fare allora supponiamo che come spesso ci capita io veda fare qualcosa che non va da una persona no questo qualcosa che non va può essere di un duplice di una duplice natura o un peccato oggettivo d'accordo oggettivo non rivolto contro di me oppure qualcosa che è rivolta contro di me un'offesa che ha fatto nei miei confronti d'accordo ora come reagisce un figlio del divinvolere dinanzi a questo e come reagisce un mondano ma anche come reagisce magari un cattolico che chiamiamolo un pochino all'acqua di rose allora un mondano ma anche un cattolico all'acqua di rose quando ci viene fatto un torto a noi stessi reagisce certo la reazione di un cattolico all'acqua di rose può essere un po' meno forte un po' meno violenta di un mondano forse ecco speriamo ma è comunque una reazione perché per esempio reagire supponiamo per esempio che una persona mi tratta male una sottile forma di vendetta e anche troppo larvata è che la prima occasione che mi capita quando ne parlo con qualcuno racconterò quello sgarbo che ho ricevuto da tizio questo lo fanno tutti diciamo tutti nel senso nel senso di sinonimo di tutti e molti così entriamo nella diatribla del promultis della consagrazione durante la messa se sono tutti tutti o se sono tutti molti perdonatemi la battuta quindi molti reagiscono in questo modo d'accordo magari un mondano si proprio vendica la grande insomma oppure non lo so uno tratta male e lo risponde a insulti d'accordo io sono anni che non vedo talk show o cose del genere insomma che sono spettacoli assai pochi edificanti ma mi ricordo quando ero più giovane di assistere in televisione a dibattiti in cui uno diceva a al prossimo e l'altro se lo mangiava anche anche in pubblico queste reazioni non hanno niente a che fare con i figli di dio ecco un bravo cristiano magari può tapparsi la bocca e già questo sarebbe tanto e questo è quello che ci ha detto di fare Gesù nel Vangelo è tantissimo mi tappo la bocca rinuncio alle mie forme di vendetta dirette o indirette subtole e guarda addirittura faccio una preghiera per la conversione di quella persona questo sarebbe già tantissimo questo qui no? su cosa ho detto? amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano che vi trattano male che vi calunniano che vi disprezzano eccetera eccetera no? d'accordo? quindi ci sono forme di reazione differenziale qual è la migliore forma di reazione? la più grande la più grande se uno legge con attenzione il pellegrinaggio della Dina Volontà è fare questo cioè chi mi ha trattato male è un'anima d'accordo? è un'anima è un'anima creata da Dio essendo un'anima creata da Dio quell'anima è sicuramente una manifestazione del suo fiat d'accordo? da maggior ragione se è l'anima di un battezzato se è l'anima di un figlio di Dio eccetera eccetera allora più ancora che sopportare pazientemente quello sgarbo e rinunciare a vendicarmi in maniera diretta o indiretta e fare una semplice preghiera io posso fare un'altra cosa posso mettere il mio ti amo in quel cuore su quelle labbra in quella mente e pregare il Signore per quel ti amo che io sto mettendo in quel cuore in quelle labbra in quella mente che in quella persona giunga presto il regno e l'avvento del Fiat Supremo perché quella cosa che non funziona e che ha fatto è sicuramente un distanziarsi dalla divina volontà e se riceverà questa persona il dono di conoscere la bellezza del Fiat Supremo quella brutta cosa non la farà più immaginavo che se questo giro viene fatto fondendosi con la divina volontà immaginate che cosa può succedere dentro quel cuore adesso apparentemente sembra che non succeda nulla come quando ne facciamo una preghiera per qualche situazione ma dovete essere presente che in tutte le cose di fede tutte le cose di fede apparentemente stante a quello che percepiamo a livello sensibile sembra sempre che non succeda nulla però in realtà figlioli mei cari succede tutto perché anche solo una preghiera fatta per la conversione di una persona produce grandissimi grazie ed effetti benefici incalcolabili per cui non è affatto la stessa cosa reagire in un modo o reagire in un altro modo scusate un attimino ecco capite che questo tipo di operazione può essere fatta per una quantità come dire potenzialmente indefinita di cose e comporta ecco perché la vita nella divina volontà comporta tanto raccoglimento ho tanta vita interiore perché è chiaro che non farò una cosa di questo genere se non mi abilito a stare alla presenza di Dio e quindi essere capace di superare le mie reazioni emotive immediate capite però questo è quello che noi dobbiamo fare facciamo un altro esempio io vedo fare un peccato anche oggettivo dove non c'entro niente io è un peccato oggettivo punto e basta dai peccati diciamo così oggi più frequenti io non so c'ho un parente questa è una cosa classica oggi che sposato in comune oppure convive oppure non lo so c'è una relazione omosessuale con qualcuno c'entro qualunque tipo di cosa che sia oggettivamente disordinata che io vengo a conoscenza oppure un problema più grande d'accordo vengo a conoscenza di una situazione brutta da un punto di vista ecclesiale uno scandalo ecclesiale d'accordo sento dire a livello oggettivo qualche strafalcione di io non voglia ma potrebbe succedere da qualche uomo di chiesa anche qui cominciamo a scandagliare la mappa delle possibili reazioni e qui dobbiamo essere sempre molto molto attenti appunto come reagisce un figlio della divina volontà cioè cosa c'è più che altro dietro la reazione di un figlio della divina volontà questo è un passaggio non fondamentale a mio avviso di più allora nel mondo del divino volere noi impariamo che anche quando vediamo all'opera la volontà umana cioè quasi sempre perché sono ben pochi a aprire le porte e quindi sia a fare e ancor meno a vivere nella divina volontà noi sappiamo anche però che la divina volontà è sempre in atto è sempre all'opera perché quell'atto di volontà umana o anche quel peccato non potrebbe esistere senza come dire il permesso certamente non il consenso della divina volontà chiaro cioè qui andiamo proprio a dei punti fondamentali qui c'è proprio a mio avviso lo scarto tra chi pensa secondo gli uomini e veramente chi pensa secondo Dio in senso ampio quel brutto peccato di cui sono venuto a conoscenza quello scandalo quel problema a livello ecclesiale o anche tornando all'esempio precedente quella cosa brutta che è stata fatta contro di me si muove dentro la divina volontà d'accordo noi non possiamo non possiamo mai pensare non possiamo e non dobbiamo mai pensare che il male possa in qualche modo prevalere il problema del male rimane un problema rimane un mistero ma quello che noi sappiamo con certezza è che nulla sfugge al potere della divina volontà cioè se Dio si mette in testa che un certo male non deve essersi non deve compersi per nessun motivo possiamo stare tranquilli che quel male non si colpirà non si compirà oppure se Dio si mette in testa che un progetto che lui ha deve realizzarsi in maniera tassativa senza violare nessuna libera volontà perché Dio non lo fa ma lo sa lui come quello che si inventa ma stiamo tranquilli che quella cosa si farà è guai a noi se non avessimo una fede di questo genere perché il male se no è facilissimo cadere nell'eresia che potrebbe essere definita un manicheismo pratico voi sapete che i manichei di cui faceva parte anche Sant'Agostino dividevano il mondo in due principi adesso ci sta ancora questa roba qui non so se avete mai visto quel simbolo che credo che sia anche dello zoroastrismo con quella specie di sfera dove ci sono quelle due figure una bianca e una nera quella sarebbero il bene e il male che si dividono praticamente in due parti la superficie di questo cerchio il bianco è il bene il nero è il male ma quell'immagine è eretica perché pone il bene e il male come due principi opposti che stanno però sullo stesso piano che si combattono su un piano di parità attenzione che per noi non è così è cioè Dio è il bene ma Dio è Dio il male che trova in Satana il suo capobando il suo artefice non sta allo stesso livello di Dio non ci sta Dio sta e il Satana sta infinitamente al di sotto dell'altissimo è un cane legato per cui anche se fa il pazzo fa il pazzo nella misura in cui la divina volontà glielo permette e la stupidità umana gli dà forza questo è diciamo l'ambito di portata dell'azione del demonio purtroppo nei tempi sciagurati che stiamo vivendo la portata è abbastanza ampia perché per alcuni misteriosi suoi disegni il Signore gli ha dato un certo margine che sembra più ampio di azione e gli uomini gli hanno spalancato con la loro perversione sotto tutti i punti di vista un'autostrada però tutto questo non è senza cioè non è che Dio sta guardando o non ci può fare niente non è così se la Madonna ha detto a Fatima perdonatemi l'esempio molto contingente il mio cuore immacolato trionferà il suo cuore immacolato trionferà punto e basta e verrà nella Chiesa un'era di prosperità e di pace ma questo accadrà punto e basta allora questo ci consente come dire un rapporto anche con il negativo con il male differente da quello del mondo ecco perché cioè chi vive nel regno del Dio Involere certamente da in tante circostanze sta in croce certamente soffre soffre con le persone quando soffrono soffre con la Chiesa ci sono momenti difficili soffre anche con il mondo che geme sotto il potere del maligno e che sembra andare verso la propria rovina non è una persona atarattica e stranea dal mondo che vive nel suo mondo però attenzione soffre serenamente e soffre santamente soffre serenamente e soffre santamente cioè anche quando noi contempliamo e ho raccomandato e io spero che a molti lo spirito santo faccia questo dono di pregare quotidianamente le ore della passione qual è l'insegnamento di questa cosa è che tutto quell'orrore che si vede nelle ore della passione è chiaro che sono una montagna di peccati commessi contro Gesù e isticati dal demone è chiaro che sarebbe una bestemmia dire che Dio intenzionalmente voglia una cosa di questo genere come quelli che dicono che bisogna fare un monumento a Giuda perché è stato Dio che gli ha detto tradisci mio figlio se no non potevi andare in crocio questa è una bestemmia orribile questa qui d'accordo non è questo il senso esatto in cui comprenderlo quindi c'è stato un permettere uno scatenarsi di ogni forma di male più terrificante più violenta possibile nel senso che veramente Gesù è stato consegnato cioè al diavolo gli è stato detto adesso proprio quello che ti pare e se il diavolo gli dice così insomma il diavolo non è che si deve andare a far insegnare quanto è cattivo però questo perché stava succedendo perché attraverso quelle cose si stava compiendo la redenzione dell'umanità capite si vede benissimo questa cosa non voglio fare pubblicità né fare i trailer cinematografici spero che chi l'ha visto l'abbia cotto nella passione di Mel Gibson nella passione di Mel Gibson dove si vede sempre questa oscura regia del demone non è anche troppo oscura che controlla tutti quanti i momenti della passione che assiste mentre Gesù è flagellato che l'accompagna durante la via crucis che lo tenta nel Gezzemani poi a un certo punto che succede appena Gesù muore si vede quella lacrima di Dio che cade sulla terra al terremoto e sotto Satana all'inferno che strilla e sbraita perché in quel momento ha capito che quella che lui pensava essere la sua vittoria era la sua fine capite quindi Dio non perde mai Dio vince Dio non perde e i figli della divina volontà non perdono mai e vincono sempre non esiste sconfitta però non c'è allora ecco perché il fondamento come dire della della calma della pace della tranquillità anche in situazioni borderline anche come dice il Salmo noi non temiamo se trema la terra se crollano i monti nel fondo del mare non temiamo se avvengono i terremoti se avvengono le carestie se avviano lo tsunami se avviene quello che vi pare se avviene la terza guerra mondiale non capite non è che uno è fuori di testa è psicopatico o è fanatico d'accordo certo è chiaro che dinanzi a cose di questo genere quando non le vive non è che rimane con le braccia concerte e cantarellando le canzoncine insomma sciocche insomma le vilastroche no non è questo però pur dentro una situazione dolorosa si rimane stabili si rimane nella pace perché quella situazione dolorosa avviene con divina permissione scorre dentro il divino volere punto e non gli sfugge capito un filo del divino volere non si mette a chiedere al signore ma perché signore tu hai permesso questo e non lo hai impedito allora fai la mia volontà ascolta la mia preghiera cambia questa situazione toglimi questa croce per carità che toglie la preghiera dei pagani questa qui dinanzi a una cosa di questo genere si prega signore bene è successo questo tu l'hai permesso fammi comprendere se c'è un messaggio da capire dietro questa croce e dietro questa tribolazione e in ogni caso ecco il giro che succede che faccio benissimo io adoro questo disegno prendo il mio diamo e lo metto in questo in questo in questo in questo prendo il mio diamo e lo metto per esempio nei cuori e nelle menti di tutte quante le persone che hanno subito la tragedia di un terremoto che forse adesso tentate dal demonio e isticate esasperate dalla comprensibile la sofferenza umana magari stanno bestemmiando o come discaricatore di porto oppure perché semplicemente si ribellano contro questa cosa e se la prendono col padre eterno accumulando male su male perché anche se questa reazione è umanamente comprensibile d'accordo non è certamente da puntarci il dito contro e giudicare perché comunque sono situazioni di grandissima sofferenza reagire in questo modo non è che migliora la situazione la peggiora perché al male che già ci sta aggiunge l'altro male provocato da tutti quanti questi peccati e alla disperazione che già c'è ne fa arrivare un altro po' capite eventuali come dire prendersene con il padre eterno aumenta ancora la situazione di sofferenza non la fa diminuire capite allora vedo una situazione disastrosa sento una predica fatta male da parte di un ministro di Dio tante volte i fedeli si lamentano di questo questo e quell'altro benissimo allora signore mio quello è un tuo ministro quello è un tuo ministro quello è un'anima che da te è stata tanto beneficata c'è il dono dell'ordine sacro è il principe dell'universo forse non si rende neanche lui contro il dono che ha ricevuto bene mio signore io metto il mio ti amo in quel cuore d'accordo chiedendoti venga su di lui il regno del divino volere fagli conoscere la bellezza della tua volontà fallo innamorare di più di te metto il mio ti amo sulla bocca di quel ministro perché la sua parola la sua bocca e la sua predica possa essere sempre animata dalla tua volontà dal fiat dallo spirito santo eccetera 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 ed eccetera capite in questo modo capite Luisa se uno legge gli scritti passava le sue giornate a girare 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 basta anche per comprendere questa forma particolare di giro che è potenzialmente infinita perché abbraccia tutte le situazioni ed è io quando ci penso la penso come a una sorta come dire di aspira grazia non so se cioè tu fai questa operazione perché nel divino volere capite cioè è questo che noi dobbiamo un attimo se io entro nella divina volontà se io mi fondo con la divina volontà io realmente mi trovo attualmente in atto dappertutto quindi io realmente posso entrare dentro un cuore dentro una mente e certamente senza che questo comporti una spersonalizzazione della persona e del diretto interessato ma siccome la divina volontà c'è in quel cuore come sta dappertutto capite io ci entro e ci prego dentro quel cuore capite ecco il senso del del giro non prego semplicemente per quella persona io vado a mettere il mio ti amo in quella persona d'accordo in quella persona e mentre riconosco anche nel male sia che subisco sia che vedo una permissione della divina volontà capite per cui non soltanto sto tranquillo dico ti ringrazio signore perché come da te accetto il bene accetto anche il male che sicuramente c'era un senso positivo per me e per tutti non dando la vinta al demonio il demonio al demonio noi gliela diamo vinta anche quando gli diamo troppa importanza nel senso che si lui fa il pazzo tutto quello che ti pare è vero che un sacco di anime se le porta all'inferno nessuno nega queste cose però noi sappiamo che comunque alla fine all'inferno ci vuole chi ci vuole andare capite e non possiamo dare al demonio la soddisfazione di vederci agitati o preoccupati per tutto quello che lui sta facendo di male perché lui ci gongola su questo allora noi abbiamo il demonio sfogate pure ma tu te sfoghi perché il padrone te lo sta permettendo d'accordo io mi unirò al padrone cercherò di non fate sfogare con me e io cercherò di riparare tutti quanti i danni che fanno le persone citandolo il divino volere e riparando in continuazione e comincia a mettere il mio ti amo a Gesù da per tutto tu continua a seminare e tu continua a seminare male e io semino il bene nella divina volontà vediamo chi è più forte voi capite che se veramente ci fosse un esercito di persone che facessero questo ma io vorrei veramente che qualcuno ma dove stanno d'accordo dove stanno io spero che anche so che cominciano a nascere i gruppi della divina volontà cioè però vivere seriamente solitamente nella divina volontà ma veramente cambia il mondo ci cambia il cuore ma ci cambia il mondo ci cambia perché questa roba qui al mondo la cambia non c'è nessunissimo dubbio che il mondo la cambi allora cioè gli atteggiamenti polemici distruttivi no adesso questa catechesi va in contemporanea in diretta radio su Radio Buon Consiglio e va in diretta Facebook sul mio profilo Facebook allora cioè voi immaginate tutto quello che quotidianamente accade su Facebook io non voglio parlare mai di Facebook perché per carità cioè se c'è una persona che è presente nel mondo del web insomma è il sottoscritto però bisogna vedere come uno sta presente capite cioè io ho anche tante cose che vedo che ascolto blog discussioni articoli anche da parte di persone io capisco che in quello che scrivono sono mosse da zelo sono mosse dall'amore a Gesù sono mosse dall'amore alla Chiesa ma le forme e i modi e i modi di interfacciarsi ma non sono graditi a Dio vanno a fare il demonio si sbutella dalle risate capite cioè nel senso tu puoi averci anche la buona intenzione di agire per l'amore a Gesù per l'amore alla Chiesa per tutto quello che ti pare ma se usi delle forme dei modi distruttivi la discussione su Facebook la critica il giudizio il puntare il dito il mormorare il chiacchierare lo sparare a zero facendo nomi e cognomi anche di persone importanti ma io dico ma cioè ci vogliamo fermare due minuti a dire ma posso ma capito perché le buone intenzioni tranquillo ce le abbiamo tutti quanti d'accordo però c'è un proverbo che dice che di buona intenzione l'ha stricato l'inferno non basta la buona intenzione cioè noi dobbiamo anche sottoporre a serio esame di coscienza l'oggettività del nostro agire e se non vogliamo entrare nel regno del divino volere dove tutto è santo dobbiamo almeno chiederci scusa un attimo ma se Gesù e la Madonna stessero nei miei panni agirebbero in questo modo cioè capite a volte si sente cioè io si assiste in giro a persone che dicono ad agire nel nome della Madonna facendo certe cose che io dico madonnina mia io lo dico nella mia umiltà insomma nel segreto della mia preghiera dico madonnina mia cioè per carità non è che io ho avuto l'apparizione della Madonna quindi ma io ho conosciuto un'altra Madonna che ha capito cioè se io devo pensare che la Madonna possa volere una cosa di lei che è stata sempre così umile lei che dinanzi ad un problema dinanzi ad una sofferenza piange e piange l'acrime di sangue e piange l'acrime umane e piange l'acrime di sangue e chiede sempre pregate e riparate pregate e riparate pregate e riparate non ho mai chiesto di fare le crociate o le terze guerre mondiali io non conosco apparizioni dove la Madonna chiede di fare queste cose non le conosco cioè non è che le conosco tutte ma ne conosco qualcuna ci ho scritto pure un libretto insomma no ma dico anche senza cioè capite è un mondo differente è un mondo diverso è un mondo è un modo diverso di relazionarsi capite cioè nella divina volontà diventa tutto divino quindi il nostro modo di agire viene necessariamente elevato divinizzato non possiamo noi agire come tutti gli altri uomini d'accordo io le dico le povere tribolazioni del te parro del poro paese sperduto sui monti rapini dell'agropontino qui come tutti quanti bellissimi paesi io sto in un posto stupendo sono graziato dal signore eccetera eccetera no però questo è un è un paesello d'accordo un paesello dove a volte ci stanno delle cose piccine cioè le persone che si attaccano se criticano se cosano allora è chiaro che qui dentro nel nostro realtà dico io quando mi muovo in parrocchia dico ragazzi noi ci vogliamo bene certamente come compaesani come cittadini va benissimo ma ci vogliamo bene anche come cristiani capito allora il nostro stile di noi quei pochi che frequentiamo un pochino la parrocchia anche il nostro stile come dire relazionale ad ampio raggio nei confronti della comunità chiamiamola civile non può essere uguale a quello di tutti gli altri se no che ci stiamo a fare qua capite non è possibile deve essere caratterizzato da delle forme e da degli stili e da dei toni differenti 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 ecco nel regno del divinvolere tutto questo diventa atto capite atto atto e anche qui la lettura degli scritti di Luisa la contemplazione assidua soprattutto della passione di Gesù e del modo con cui Gesù si interfacciava guardate che io per esempio ho sempre pensato non me ne vogliano gli amici di Luisa che un'altra serie di buona lettura che si possono fare per comprendere un po' lo stile il mondo del divinvolere che io la prima volta che lessi queste cose non conoscevo il mondo del divinvolere e mi sembrava tutta una cosa strana non so chi le conosce sono gli scritti della sempre anche qui credo serva di Dio non so se già venerabile su Orcecidia Bai che ha scritto la vita interna di Gesù Cristo e la vita di San Giuseppe che sono dei capolavori di spiritualità si trovano dico subito non si trovano in giro queste cose qui bisogna chiederle alle suole del monastero dove questa santa donna è vissuta che si trovano a Monte Fiascone online è possibile trovare tutte e altre queste cose qui se uno legge la vita interna di Gesù Cristo è una lettura come dire raccomandabilissima perché quella è scuola di divina volontà perché la vita interna di Gesù Cristo mostra come Gesù nella sua vita privata e nella sua vita pubblica interiormente reagiva alle situazioni agli eventi alle persone eccetera eccetera veramente lì se uno legge rileggere qualcosa adesso con le cognizioni che ho avuto da Luisa sarebbe veramente uno spettacolo adesso vado a memoria rimane veramente affascinato questo continuo desiderio di dare gloria al Padre di riparare i peccati che vedeva da parte degli altri uomini esattamente quello che Luisa ci dice quando ci informa che in tutta la vita terrena Gesù non si è preoccupato soltanto di distruggere i peccati con le sofferenze ma anche di rifare tutti gli atti degli uomini adesso forse oggi lo leggerò soltanto questo scritto la prossima volta lo commentiamo rifare tutto quindi rimettere tutto a posto noi non rimettiamo tutto a posto finendo di distruggere capito? il male questo è un insegnamento universale del Vangelo non si distrugge con l'altro male perché Gesù dice se qualcuno gli dà uno schiaffo porgi anche l'altra guancia perché se dà un altro schiaffo tu il male non lo distruggi ma ne fai un altro se tu lo schiaffo te lo prendi lo offri e rispondi con il perdono quel male l'è neutralizzato e non ne ha generato altro questo Gesù ci ha insegnato a fare nel Vangelo ragazzi capite? questo ci ha insegnato a fare Gesù nel Vangelo non altro allora gli atti fatti malamente da parte delle altre persone questo è un punto focale per esempio della liberazione del divinvolere vanno riparati cioè se quello ha fatto una cosa fatta male e non la ripara lui io quante volte dico alle persone dico guarda figlio mio perché la gente questo non non gli entra in testa non gli entra in testa quante catechesi ci ho fatto sapete un'altra gente sempre di Don Leonardo Don Leonardo Don Leonardo che mi da pure un po' capite che Don Leonardo è un povero prete quindi è semplicemente però quante volte durante le catechesi ho spiegato dico guarda qual è il senso della penitenza cristiana qual è? se tu hai fatto un peccato o una cosa che non va non c'è solo l'offesa di Dio che questa ti viene rimessa con il sacramento della confessione ma ci sono anche i danni che tu hai procurato a te anzitutto e quando è un peccato che ha fatto male al prossimo fuori di te queste cose perché il sacramento della confessione finisce con la penitenza per ricordarti che certamente Dio ti ha perdonato d'accordo ma tu ci devi mettere del tuo devi sistemarle le cose devi riparare ci sono alcuni peccati in cui questo è palese hai rubato devi restituire hai calunniato il prossimo devi restituirgli la buona fama d'accordo ma hai fatto una cosa che fa male a te per esempio hai insultato una persona tu ti devi andare a chiedere perdono figlio mio devi ripararlo quel gesto che hai fatto perché quell'insultare la persona una volta che tu l'hai fatto ti ha reso un po' meno caritatevole ti ha degradato verso l'anticarità d'accordo verso il giudizio verso l'offesa del prossimo quindi questa degradazione va recuperata e questo non te lo recupera il sacramento della confessione il sacramento della confessione a Dio ti perdona l'offesa che hai fatto a lui ma questo lo devi fare tu sei tu che devi andare da tizio e chiedergli perdono o sei tu che in base al peccato che hai fatto devi fare un atto di riparazione che ti consenta di neutralizzare le conseguenze negative del male che hai fatto tu questo dovrebbero farlo tutti ma quale essere umano fa queste cose quale certamente anche qui è un quale qualcuno lo fa ma sono una minoranza assoluta rispetto alla maggioranza del mondo e tutta questa montagna dei male che sta in giro e o di bene non fatto o di amore di Dio non accolto e non ricambiato chi ce fa qualcosa chi ce mette una pezza dicono a Roma il mondo del divinvolere sta tutto qui sta sta tutto qui ripeto Luisa Piccarreta per una vita non ha fatto altro che girare dalla mattina alla sera fare i giri nel Fiat Creante nel Fiat Santificante e nel Fiat Redimente in continuazione non faceva altro che cosa pensiamo noi di una vita così o meglio altro lo faceva era un'anima vittima e quindi spesso e volentieri si prendeva crocifissioni corone di spine in testa versamenti di cose amare nella bocca da parte di Gesù e degli scritti per fermare la divina giustizia e ottenere misericordia al mondo anche come vittima quindi non soltanto nel regno del divinvolere quindi come riparatrice e come adesso lo vedremo nello scritto stupendo che ho promesso di reggere come colei che rifà con Gesù e con Maria tutto quello che gli uomini non hanno fatto e non fanno e questa è la vocazione di chi vuole entrare nel regno del divinvolere ma anche come colei che con Gesù se ne fa carico come vittima questo ha fatto più scrivere tutta la roba che per grazie di Dio ha scritto insomma è abbastanza però agli occhi del mondo la vita di questa donna è la vita di una povera donnetta che stava rinchiusa dentro una casa che ogni tanto faceva qualche lavoretto al tombolo per guadagnarsi qualche sordo che stava tutto il giorno fregata dentro il letto a fa che secondo noi secondo noi allora ecco come raccordo quindi io spero di aver spiegato cioè capite qui ripeto potremmo starci a fare quattro puntate di catechesi circa gli esempi infiniti vedi qualcosa che non va in qualcuno Gesù metto il mio ti amo nel ma nelle cose più brutte sai che una persona sapete quanta gente ecco dice padre ho visto sai quella persona sono sposati al comune ho visto sono andati a farsi alla comunione che ci posso fare che ci puoi fare metti il tuo ti amo intanto dentro quel cuore e dentro quelle labbra soffri con Gesù di Gesù io metto il mio ti amo in queste cuore in queste labbra anzitutto perché tu insieme a quella bocca sacrilega e a quel cuore sacrilega trovi l'amore mio che faccia da schermo al disgusto che avrai ad entrare dentro un'anima del genere e al tempo stesso ti chiedo che il regno del Fiat Supremo regni in quest'anima faglielo conoscere falla convertire falla percepire la peccaminosità di quello che sta facendo queste sono grandi operazioni da fare le più grandi e le più importanti ok le più grandi e le più importanti allora io volevo a questo punto credo che lo leggerò poi lo riprenderemo la prossima volta leggere uno dei passi a mio avviso più belli più chiari più importanti di tutti gli scritti di Luisa che al punto in cui siamo arrivati ci fa molto bene comprendere qualcosa del divino volere io vedo che abbiamo circa un quarto d'ora provo a leggerlo perché è abbastanza lungo lo leggerò con calma così abbiamo anche tempo chi segue queste queste catechesi di ascoltarlo di digerirlo ed eventualmente tanto gli scritti sono facilmente rinvenibili online e di andarlo a riprenderlo rileggerlo meditarlo e digerirlo eventualmente riservandomi in commento alla prossima puntata perché questo è un punto focale e fondamentale del nostro percorso quindi che ci consente di fare a questo punto del nostro cammino questa è la ventottesima puntata un punto della situazione riprendere molte cose che abbiamo già meditato e aprirci su quello che ancora ci resta da meditare allora siamo nel volume quattordicesimo del libro di cielo 11 novembre del 1922 lo leggo con calma ripeto cercando di dargli anche la più bella intonazione possibile perché possiamo per un istante renderci conto e ricollocarci in questo mondo tutto divino dal divino volere allora il mio sempre amabile Gesù nel venire mi ha tirata tanto a sé dentro di una luce immensa e mi ha detto piccola figlia del mio volere questa luce immensa che tu vedi è la mia suprema volontà attenzione da cui niente sfugge ripeto da cui niente sfugge e poi ripeto da cui niente sfugge niente proseguo tu devi sapere che come creai il cielo il sole le stelle eccetera a tutti fissai i limiti il posto il numero né possono crescere né decrescere tutte le cose le ho come impugno vi prego di assimilare bene queste cose qui cioè la divina volontà è la divina volontà punto d'accordo così nel creare l'uomo nel medesimo tempo creai tutte le intelligenze e ciascun pensiero tutte le parole le opere i passi e tutto il resto dell'uomo dal primo fino all'ultimo che dovrà esistere capito? nel creare l'uomo nel medesimo tempo creai tutte le intelligenze ciascun pensiero tutte le parole le opere i passi e tutto il resto dell'uomo dal primo fino all'ultimo che dovrà esistere ok e questo era come con naturale in me molto più che io stesso dovevo essere attore e spettatore anche di un pensiero e se l'uomo non poteva fare senza di me come non dovevo saperlo e conoscere neanche il numero sicché nella mia volontà nuota tutto l'operato delle creature come i pesci nuotano dentro un vasto mare ripeto tutto l'operato delle creature io ogni tanto quando leggo per me questi scritti o li leggo per gli altri faccio la preghiera che faceva San Paolo in una delle sue lettere possa egli lo spirito santo illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere queste cose questa è tanta roba questa qui voi immaginate se io questa roba la prendo e la faccio scendere profondamente dentro il mio cuore e non me la dimentico più e quindi imparo ad avere occhi per vedere la divina volontà dappertutto e correttamente dappertutto ma avendo creato l'uomo attenzione a questo passaggio non schiavo ma libero quindi l'uomo non è come il sole il cielo e le stelle è diverso avendo creato l'uomo non schiavo ma libero perché non era decoroso per me né opera degna uscita dalle mie mani se facessi uscire quest'uomo inceppato senza libertà né potrei dire facciamolo a nostra immagine e somiglianza se non lo facevo libero cioè capite anche che l'immagine e somiglianza che noi abbiamo con Dio si trova nella nostra libertà perché Dio è l'essere libero per l'antonomasia allora volevo dotarlo con la libertà punto io ero libero libero anche lui e poi non c'è cosa che più tortura una persona se qualcuno non è d'accordo alzi una alzi la mano che dare un amore forzato e questo oggetta diffidenze sospetti timori è quasi schivo in chi lo riceve chi di noi è contento quando deve fare una cosa per forza qualcuno è contento quando deve fare una cosa per forza nulla ha senso se non è da noi liberamente interiorizzato compreso scelto fatto nostro e valorizzato nulla cioè Dio per esempio gli ha dati i comandamenti quante categorie ho fatto io sui comandamenti i comandamenti si chiamano comandamenti in che senso cioè nel senso che Dio gli sta dicendo sta attento questa è la linea di remarcazione tra il bene e il male se tu fai il bene starai bene se fai il male starai male dopodiché sei tu che sei libero di dargli letta a quello che ha detto il nostro signore di abbracciare i comandamenti di riconoscere il male come il male il bene come il bene e liberamente scegliere l'abbracciarlo e se hai fatto il male devi confessare te ne penti e non lo hai più quindi c'è sempre in causa la nostra libertà proseguo vedi dove hanno origine ciascun atto di creatura anche un pensiero attenzione un pensiero di qualunque genere ricordate quello che ci siamo detti all'inizio quando cercavamo di fissare che cos'è il divin volere nel divin volere tutto sussiste io adesso sto parlando a prescindere dalle cose che dico perché la divina volontà mi mantiene nell'essere e permette al mio pensiero di esprimersi oltre che di funzionare se no io non parlerei e se Dio non voglia stessi facendo discorsi osceni stessi facendo bestemmiando tutto quello che vuole certamente che Dio non vorrebbe la malizia degli atti che sto facendo ma il mio pensiero si potrebbe demoniacamente esprimere in quel modo maledetto sempre perché la divina volontà lo mantiene nell'essere sempre altrimenti tornerei nel nulla da cui sono stato tratto capito e ripeto vedi dove hanno origine sasconato di creatura anche un pensiero nella santità della mia volontà con questa differenza però che se l'uomo vuole e questa è la differenza tra noi e Dio con lo stesso pensiero parola eccetera può farlo bene o male santo o cattivo quella è la differenza tra la volontà umana e quella divina che la volontà divina fa solo bene santo perfetto eccellente eterno infinito immenso qualcosa che faccia noi no noi possiamo fare male cattivo dannoso nocivo brutto imperfetto misero eccetera proseguo la lettura ora la mia volontà ebbe un dolore nel vedere in tanti cambiati i loro atti di cui era attrice state attenti attore e spettatore i micidiali per me e per loro allora attenzione possa lo spirito santo illuminare le vostre menti cosa vuol dire la mia volontà ebbe un dolore nel vedere in tanti cambiati i loro atti di cui era attrice attenzione i micidiali per me e per loro cioè tu puoi pensare volere agire solo nel divino volere ma il contenuto e il fine del tuo pensare e agire si può discostare dal divino volere perché sei libero e se fa questo tu stesso produci un qualche cosa di micidiale per Dio in quanto gli dai il dolore e di vederti soffrire e per te in quanto distrugge la tua vita e quella di chi ti sta intorno chiaro? perciò volevo che la mia volontà attenzione guardate questo è un passaggio fondamentalissimo poi non sai anche a dire che è difficile perché non è tanto però bisogna assolutamente capirle ste cose qui perciò volevo che la mia volontà attenzione facendosi doppiamente attrice di ciascun atto stendesse su tutti un altro atto divino che doveva ricambiarmi secondo la santità della mia volontà in tanti altri atti divini capito? allora spieghiamo l'uomo può fare qualunque atto parola pensiero opera quello che vuole solo nel divino volere ma quell'atto può essere contrario al divino volere allora cosa vuole la divina volontà? vuole che a questo secondo atto d'accordo? che è contrario al divino volere si sovrapponga si stende sopra un altro atto che ne distrugge la negatività almeno da un punto di vista oggettivo quindi ci vuole qualcuno che rifaccia quella stessa azione pensiere parola malfatta bene e degna di Dio chi è che ha fatto questo? il nostro signore Gesù Cristo nella sua vita terrena e non solo lui vedremo riprendo perciò volevo che la mia volontà facendosi doppiamente attrice di ciascun atto stendesse su tutti un altro atto divino che doveva ricambiarmi secondo la santità della mia volontà in tanti altri atti divini ma ci voleva uno per fare ciò ed ecco la mia umanità santa libera anch'essa che non volendo altra vita che la sola volontà divina e questo spetta a noi la scelta a te che mi stai ascoltando e a me che sto parlando a te se vuoi vivere di volontà umana o se vuoi vivere di volontà divina come Gesù e come Maria a te la scelta c'è una bella canzone dei San di chi sarai non volendo altra vita che la sola volontà divina nuotando in questo mare immenso andava raddoppiando ciascun pensiero parola ed opera di creatura e stendeva su tutto un altro di volontà divina capite andava raddoppiando voi vi immaginate provate a fare un attimo è impossibile quanti uomini sono campati da Adamo fino a oggi quanti uomini e donne solo adesso nel mondo c'è circa 6-7 miliardi adesso non sono giornato sui numeri provate a immaginare ogni giorno 6-7 miliardi di persone quanti atti fanno pensieri parole d'opere quanti ne fanno provate a pensare questo per quanti anni è presente la razza umana sul pianeta terra quanti atti saranno capite la voglia mettere 10 elevato alla 2 milionesima d'accordo non è possibile calcolare il numero su tutti gli atti che non erano di divina volontà bisognava stendere un altro atto contrario e riparatore di quello balordo degno di Dio e questo da un punto di vista oggettivo perché la volontà di Dio questo esigeva io mi fermerei qui ripartiamo da qui la prossima non si capisce questo punto questo passaggio focale fondamentale è chiaro che di una larga parte del discorso sul divino volere non si capisce niente anche quello che vorrei approfondire perché prima di passare l'ultima parte che è per esempio come ogni nostro atto nella divina volontà si moltiplica all'infinito è un tema su cui tantissime volte Gesù fa tornare Luisa il moltiplicarsi dei suoi atti nel divino volere a livello indefinito capito allora la mia umanità santa libera anch'essa che non volendo altra vita che la sola volontà divina nuotando in questo mare immenso quindi perché nella volontà divina lui era in grado di raggiungere tutte le creature ogni pensiero di ogni tempo luogo e circostanza nuotando quindi in questo mare immenso andava raddoppiando quindi a quel pensiero parola e azione balorda che è nella divina volontà quanto all'origine ma è nella volontà umana quanto al compimento deve essere coperto e raddoppiato duplicato lui ha fatto un disastro e io la faccio giusta e glielo offro per lui questo Gesù l'ha fatto come vedremo non soltanto ma come esempio se tu vuoi entrare nel divinvolere devi abituarti a fare questo figurate ma non basta che lo fai per te dici che ho fatto una cosa che non va la riparo io è troppo poco lo devi riparare per tutti ciascun pensiero parola ed opera di creatura estendeva su tutto un atto di volontà divina attenzione petto punto e questo soddisfaceva e glorificava il divino padre in modo che potete guardare l'uomo ed aprirgli le porte del cielo questo e rannodavo con più forza la volontà umana lasciandola sempre libera lasciandola sempre libera non scostarsi dalla volontà del suo creatore per cui si era precipitata in tante sciavole ok ci aggiorniamo la prossima settimana e riprenderemo esattamente se Dio vuole da questo punto buon proseguimento di settimana a tutti fiat ave maria e riprenderemo e riprenderemo